Wow, ammazza chi è lei? Anche con una foto di quando avevo 12 casi? Che fa, le vende? Le spaccia a lei? Va male un po'? Facciamo un 6, per favore, veloce e veloce. Sì, perché un po'? 3, 2, 1... Scusi, se hai girato, non è molto bene. Come sei girato? Quella è totica. Una paresi, eh? Grazie, grazie. Buonasera, come va? Ma chi è che grida? Sì, grazie. Hanno perso una fortuna che si chiama Zio Forza. Arrivo, mamma. Ma sento che è grigi? Ciao! Ciao! La fai, aspetta un po'? Sì, 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 sì. No, 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 no... Eccati! Aspetta, aspetta! Aspetta, aspetta! Aspetta, aspetta, perché sei anche più bella! Sei anche bella, eh? Eh, dai! Mi sembravi una cozza, invece ho scoperto che sei pure carino. Eh? L'hai detta con una voce che... Sì. Sì. Ma sono po' prossima. Secondo me la mattina. Eh, perché che va! Un'altra, un'altra, un'altra. Un'altra, 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 un'altra. Grande, ma...